bentornati sul canale oggi rapido aggiornamento sulle uova siamo al 7 di giugno e facciamo l'ultima speratura prima della schiusa e adesso ci aspettiamo un attimo che si riscaldano di nuovo le uova così almeno possiamo andare a fare la speratura sempre con la nostra lampadina e ci mettiamo al buio perfetto siamo pronti con la nostra torcetta e l'incubatrice la apriamo e andiamo subito a visionare le prime uova metto la luce di sotto ecco qui l'uovo come vediamo a un importante sacca d'aria di sotto dove poi tra qualche giorno vedremo spuntare il becco del piccolo del piccolo all'interno della sacca d'aria adesso io colgo l'occasione per girarle le uova quindi le metto dal lato 1 e proseguo con l'aspiratura questo è molto più evidente come potete vedere si vede proprio qui l'embrione che che insomma è quasi pronto e vedete anche molto bene il distacco della sacca d'aria anzi si vedono persino le piccole zampette guardate eccole qui che carino vedete si muove adesso io lo vado a riporre sempre molto delicatamente all'interno proseguo questo è molto scuro purtroppo si vede poco ma si vede la sacca d'aria qui sotto e è molto annerito quindi devo presoporre che sia andato molto a buon fine infatti ci sono delle importanti vene all'interno qui adesso sarei scesa la luce e non vediamo più niente la sposto proseguiamo con il controllo questa anche è molto nera e vediamo un importante vene e soprattutto dobbiamo fare attenzione che ci sia questa sacca d'aria dove appunto il pulcino metterà il becco e quando sarà quando sarà arrivato del momento della schiusa ora lo riponiamo e continuiamo eccolo qui anche questo qui è molto evidente si vede molto bene anzi si vede non so se riuscite a vederlo ma si vede anche che si muove all'interno vedete e lo andiamo a mettere giù questa questa è molto scura però vediamo notiamo la sacca d'aria qui di sotto e importanti vene di sopra ve l'ho detto l'importante che abbiamo la sacca d'aria quella è molto importante come d'altronde scritto nel libricino che andremo dopo a visionare questo anche eccolo qui si vede addirittura si vede addirittura il pulcino all'interno c'è la sacca d'aria e quindi tutto molto tutto a posto qui è tutto scuro e c'è la sacca d'aria quindi è andato tutto a buon fine non si vedeva nient'altro ovviamente stesso discorso per questo è molto scuro qui possiamo intravedere qualcosa soprattutto qualche vena e la sacca d'aria all'interno stesso discorso per questa da questa parte qui è molto più scura sotto notiamo la sacca d'aria e le vene di sotto quindi perfetto procede tutto molto bene ne manca soltanto una questa qui eccolo qui perfetto si vede proprio il pulcino all'interno la sacca d'aria e tutto procede secondo come deve andare adesso riaccendiamo la luce perfetto vado a richiudere adesso l'incubatrice metteremo da vedere sempre il termometro adesso andiamo a dare uno sguardo a il libricino di istruzione chiamiamolo così per per vedere anche se l'andamento delle uova come l'abbiamo visto è in linea con quello scritto qui nel libricino della novital allora eccolo qui c'è scritto sedicesimo diciottesimo giorno oggi siamo esattamente al diciassettesimo e abbiamo notato questa cosa qui che l'uovo si è quasi interamente annerito e si è iniziato a formare la sacca d'aria poi dirà che a 12 giorni della schiusa c'è scritto infatti a poche ore dalla schiusa 24 48 ore l'embrione vivo si presenta con il becco nella sua sacca d'aria che è questa qui che praticamente noi vediamo bianca è quella che riusciamo a illuminare perché il resto dell'uovo rimane nero si consiglia anche negli ultimi tre giorni di non effettuare l'asperatura quindi oggi è l'ultimo giorno che noi andiamo a fare l'asperatura non ci rimane che attendere appunto la loro schiusa e ho preparato intanto il loro habitat il loro habitat passatemi il termine nel senso dove vivranno quelle due settimane il tempo che diventeranno pulci notti e poi le potrò mettere insieme alle altre due galline che già abbiamo dove le ho messe utilizzerò questa lampada è una lampada come ho detto già nello scorso video a ultravioletti che ancora non ho aperto ancora lo scotch eccola qui è una lampada da 150 watt devo comprare solamente il suo applica ma credo di averne uno questa è una lampada a infrarossi made in corea però insomma è quella che più vi convenia comprare anche su amazon la trovate a poco quindi adesso non ci rimane che andarla a installare e creare appunto una sorta di gabbietta per appunto i nasciduri perché purtroppo ho un gatto che gira libero e non so se potrebbe dar fastidio o peggio ai pulcini adesso ti mostro cosa ho realizzato per per mantenerli in quelle una due settimane finché non diventano pulci notti ho scelto di metterla qui dentro la lampada con tutto quanto perché è l'unica parte dove ho un una sorta di serratura e dove sono un po più riparati i pulcini userò questo baule adesso metterò una rete al di sopra poi grazie a questo andrò a montare anche la mia lampada ok questa è la lampada che andrò a montare la avvito semplicemente come qualsiasi lampadina credo troverò un gancio da appendere in modo tale da farla stare più o meno a questa altezza perché ho scelto questo baule perché è in legno quindi è termico praticamente posso tranquillamente gestire lo spazio perché in un posto del genere dei pulcinotti voglio di centrano relativamente bene sono 11 quindi 11 pulcinotti qua dentro che è un metro e venti per sessanta ci vanno poi tanto dopo verranno tutti trasportati trasferiti dentro al pollaio che è qui appunto accanto ok non mi rimane adesso che fare il collegamento tra la spina qui tra la prolunga e appunto da la luce e inserisco però un interruttore così almeno riuscirò a gestirmela insomma da qui perfetto l'ho montato adesso devo solo capire quanti gradi faranno qui dentro fatti molto credo però sia alquanto caldo qui sì madonna è veramente caldo devo cercare di riuscire a capire come fare per appunto regolare la temperatura in base a quello che mi serve tanto poi si vede se si hanno freddo caldo perché vanno sotto la luce se spostano infatti forse credo sia meglio spostarla un po di lato vediamo un po diciamo che poi comunque sia io al pomeriggio conto di tenerla spenta questa l'accenderei giusto giusto la notte perché almeno stanno caldi anche se voglio dire non c'è bisogno perché qui sono riparati intorno è tutto schermato sopra questo qua è polistirolo qui dentro c'è legno e fuori appunto il pomeriggio fanno 40 gradi quindi voglio dire non non credo serva però adesso mi cerco di documentarmi prima della schiusa per fare per fare appunto qualcosa non mi rimane che mentre questa rete così da schermare il dentro col fuori ok l'ho spostata dalla parte destra in modo tale che se i pulcini dovessero avere freddo si mettono sotto la la lampada e abbiamo risolto il problema altrimenti se hanno caldo si mettono da quest'altra parte così almeno riusciamo a mantenere diciamo una temperatura adeguata perché adesso qui sotto fa abbastanza caldo qui intorno anche vediamo un po si qui è caldo qui qui meno comunque appena schiuderanno io cercherò di di vederli insomma di starci un po vicino e capire quanto calore gli può servire e quindi regolare di conseguenza la lampada non mi rimane appunto che mettere questa rete per ora la luce la speggiamo e la mettiamo da parte perché al momento quello che ci interessa è mettere la rete così da proteggere i pulcini per quanto riguarda topi gatti animali strani orsi non cosa che c'è sta qua c'è un po di tutto allora la rete che uso è questa è una rete ovviamente di plastica e farò come vedete poggiate qui userò queste assi insomma questa e questa in modo tale che si poggiano sopra poi una volta prese le misure cercherò di bloccarle insieme ad altre travi una qui e una lì e poi ci attaccherò questa rete sopra così da schermare tutto quanto ok abbiamo preparato tutto quanto adesso non ci resta che posizionarla la rete è a prova di topo o gatto che sia resiste insomma più o meno non è che deve essere antinucleare l'importante è che riesce insomma a non far entrare altri diciamo inquilini per quanto riguarda invece la lampada adesso devo andare a fare un foro in qualche maniera per farla entrare bene adesso abbiamo creato anche il nostro coperchio ai pulcini abbiamo anche fatto una sorta di ascensore per quanto riguarda la la lampada vi mostro più da vicino eccola qui la nostra lampada questo è il nostro baule la lampada come detto si può regolare da qui tirando semplicemente oppure mandando più sotto e anche da qui ovviamente abbiamo messo questo interruttore in modo tale da poterla spengere ho anche già fatto il primo regale che è nascituri o meglio due uno è la mangiatoia questa qui a sospensione in modo tale che i topi evitano di andarci e l'altro invece l'abbiamo fatto a questa maniera che ci posso mettere la bottiglia dell'acqua classica di casa più poi io non me ne era accorto ma già c'era pronto anche questo ma non l'avevo visto e quindi va bene ce ne faremo una ragione ne abbiamo comprato un altro comunque e niente detto ciò adesso chiudo qui vi faccio vedere anche la la rimessa i pulcini si troveranno all'interno del nostro baule lì il baule ovviamente all'interno di una rimessa accanto al pollaio non mi resta che salutarti e e darti appuntamento alla schiusa delle nostre uova e quindi a presto ti invito a iscriverti al canale e mettere un bel mi piace se il video ti è piaciuto se è di tuo interesse e commentare se hai qualche consiglio da darmi alla prossima ciao